App Store, le vicende di un medico in famiglia a portata di iPhone Le vicende del dottor Lele Martini e famiglia sempre aggiornate sul proprio iPhone. L'enorme successo della fiction Un medico in famiglia, giunto ormai alla settima serie, sono disponibili anche attraverso una speciale applicazione per i dispositivi Apple. Video in anteprima, anticipazioni e tanti contenuti extra per essere sempre aggiornati sulle appassionanti vicende della famiglia più amata dall'italiano. L'app è molto facile da utilizzare. Dalla Home permette di visualizzare direttamente l'anteprima dell'ultima puntata andata in onda, mentre nella sezione Settima serie è possibile accedere a tutte le puntate della stagione in corso. Nella parte Serie, infine, è possibile compiere un viaggio nel passato e rivedere gli episodi delle serie precedenti. Non può mancare poi la sezione Extra, con contenuti esclusivi come backstage, interviste e il simpatico cartone animato della serie. Un'app decisamente indispensabile per tutti i fans della famosissima fiction, con Giulio Scarpati, Margossi Caboni, Francesca Cavallin, Paolo Conticini, Ugo Dighiero e Giorgia Surina, per la regia di Elisabetta Marchetti, Raffaele Verzillo e Vincenzo Verdecchi. L'applicazione è disponibile su App Store a 1,59 centesimi di euro. È compatibile con iPhone, iPod Touch e iPad e richiede iOS 3.1 o versioni successive.